Vladimir Luxuria sgancia la bomba. Non escludo divorzio tra i Jalice dopo l'isola. L'opinionista lancia un rumor su Alessandra Drusian e Fabio Ricci che fa pensare e torna a parlare di un episodio del passato sullo Cicero. Vladimir Luxuria sgancia la sua bomba in una nuova intervista per Novella 2000. L'opinionista dell'isola dei famosi 2023 non esclude che la coppia che compone i Jalice potrebbero arrivare al divorzio una volta conclusa questa esperienza in Honduras. Si riferisce a Fabio Ricci e Alessandra Drusian, i quali sono sposati dal 1999. Condividono insieme una carriera musicale e sono anche marito e moglie. Insieme hanno preso parte alla nuova edizione del reality show, e proprio nella scorsa puntata di lunedì 8 maggio, sono stati separati nel gioco. Infatti, Ilari Blasi ha annunciato ai naufraghi in prima serata che la tribù degli Accoppiados non sarebbe più esistita. Così le coppie sono state divise. Con tanto di sfuriata da parte di Alessandro Cecchi Paone. Le donne sono finite nella tribù delle Cicas e gli uomini nella tribù degli Ombres. Fabio e Alessandra si sono separati nel gioco senza alcun problema. Pronti a lasciarsi trasportare dalle dinamiche del programma televisivo. E nelle prossime puntate dell'Isola dei Famosi dovrebbe arrivare una sorpresa proprio che i due naufraghi ad assicurati. Grazie a tutti. Nel passato è che la vista protagonista con Andrea Locicero. Questo episodio risale al 2016, quando l'ex-regbista aveva dichiarato di non indossare le protezioni durante le gare ritenendole, da FR asterisco asterisco TTI. Vladimir aveva attaccato Andrea per queste dichiarazioni. Oggi l'opinionista precisa che tali affermazioni fatte dallo Cicero non le considera legate all'omofobia. A detta sua si tratterebbero solo di parole infelici. A questo punto, la stessa Vladimir spiega nel dettaglio cosa pensa al riguardo. Lo Cicero affermava di non usare protezioni sul campo da rugby all'infuori del paradenti, poiché tutto il resto, a suo dire, sarebbe roba, da FR asterisco asterisco TTI. Froci asterisco, dal latino, significa, molliccio. Io invitai Lo Cicero a farsi un giro per i locali gay di Roma. Brulicanti di omosessuali che tutto sono fuorché, mollicci, talvolta ben più macchi di lui. Detto questo, Vladimir Luxury ha assicurato di non avere nessun pregiudizio nei confronti di Lo Cicero. Anzi, ammette che lo sta apprezzando nel suo percorso in Honduras, in fatto di operosità e sportività. A detta dell'opinionista, bisognerebbe giudicare i concorrenti dal momento in cui approdano sulla spiaggia di Caios Cochinos. Nel suo ruolo ogni cosa che riguarda la vita fuori o il passato dei naufraghi, decade.